Lei viene. Io vengo a costo zero. Le montiamo due impianti. Mi consente ma non ho capito molto bene. Lei viene? Sì. Scusi una volta sola? No, sono due gli impianti. Quante volte viene? Allora, possiamo mettere due impianti più i led. Più visita per ogni volta. Possiamo mettere anche la bicicletta elettrica. Quante volte quindi? Tre, quattro, cinque, dipende dalle esigenze. Con che distanza temporale una visita? Dipende dai nostri tecnici. Va bene, mi sembra che sia tutto sommato un'offerta conveniente. Ottimo, ci piace. Si vuole girare ancora un'altra volta? Nila. Nila? Sì, è un'offerta conveniente.